Presidenti delle province deluse, arrabbiati, anche ironici, dopo il taglio degli enti da parte del governo e dopo l'appello del presidente del Lupi, Antonio Saitta, che ha chiesto ai colleghi un ulteriore impegno per far funzionare le nuove province, qualcuno, come Rosario De Matteis, sbotta. Già prima non avevamo i fondi per far funzionare le cose, figuriamoci adesso. Il suo collega esernino, Luigi Mazzuto, provoca lanciamo una cuaresima istituzionale, da luglio a dicembre tutti gli amministratori, anche a livello comunale, e rinuncino alle indennità per destinarle ad un fondo per le scuole e per il sociale. Questa l'idea, ma in tempi di ristrettezze economiche per tutti, chissà se non cadrà nel vuoto più assoluto. Intanto De Matteis polemizza sullo sforzo chiesto per consentire l'avvio delle nuove province, volute da Renzi. Una richiesta per spronarci a dare il massimo ed evitare disturbi, preparandoci alle nuove funzioni che saremo chiamate a ricoprire, spiega il presidente di Palazzo Magno. Sì, va bene, ma con quali soldi? La nuova legge è un golpe, una mancata riforma, un provvedimento che non abolisce ma che trasforma un ente eletto con un doppione delle vecchie comunità montane, senza risparmi e senza alcun beneficio per la collettività, così si è espresso qualche presidente di provincia. E la preoccupazione da nord a sud è comune e collettiva. Sono anni che gli enti hanno disposizione e bilanci sempre più risicati, tanto da non poter garantire nemmeno il quotidiano, come la sicurezza delle scuole o quella stradale. E ora, con la nuova richiesta di Renzi e di Saitta, i presidenti delle province si dicono trasecolati, figuriamoci, dicono, far fronte anche alle nuove incombenze senza trasferimenti statali. Mi domando come si possano chiedere altri sacrifici con una legge che calpeste il nostro ruolo, senza i fondi che ben tre governi tecnici ci hanno negato e ci continuano a negare, conclude il ritato De Matteis. Questa legge non riordina e non riforma, abolisce delle poltrone legittime per assegnarne altre, come si verificava per le comunità montane.